E' un po' di una grande griglia, per quello che non prende. No, la viola è un'età da grande, ma per quello che non prende. Io ho spiegiato i cappellini, per quelli che sono lavati. E' un cappellino che dicevo. E' un cappellino che dicevo che abbiamo insieme. E' quella colomino, una su rosa. Una su rosa. Una su rosa. Andate dall'alba in piano, vicino ad una cerata. In chamado. L'appаки ha fatto una sera che stai gravando. E' un po' di due due is Contacta. Qui si è rosa. Questa è una scatola. In un po' di due. In un po' di due. Grazie a tutti.